In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro II, Capo VIII. Della Familiare Amicizia di Gesù Quando vi è Gesù, tutto è buono e nessuna cosa sembra difficile. Quando invece non vi è Gesù, ogni cosa è dura. Quando Gesù non parla al di dentro, niente ci consola. Ma se Gesù dice una sola parola, si sente gran gioia. Forse che Maria non si levò tosto. Dal luogo dove aveva pianto, quando Marta le disse, il Maestro è qui e ti chiama, felice quell'ora in cui Gesù chiama dalle lacrime al gaudio dello Spirito. Quanto sei arido e duro senza Gesù, quanto sei stolto e vano se brami alcuna cosa fuori di Gesù. Non è questo un danno più grave che se perdessi tutto il mondo? A che può giovarti il mondo senza Gesù? Essere senza Gesù è grave inferno, ed essere con Gesù è dolce paradiso. Se Gesù sarà teco, nessun nemico ti potrà nuocere. Chi trova Gesù trova un prezioso tesoro, anzi il bene superiore a tutti i beni. E chi perde Gesù perde troppo grande cosa, e più che tutto il mondo. Poverissimo è chi vive senza Gesù. E chi è bene con Gesù ha la più grande ricchezza. Grande arte è sapere vivere con Gesù. E saper trattenere Gesù con noi è grande sapienza. Sii umile e pacifico, e Gesù sarà con te. Sii pronto al sacrificio e quieto, e Gesù rimarrà con te. Ben presto allontanerai Gesù da te, e perderai la sua grazia, se vorrai piegarti alle cose esteriori. E se avrai allontanato e perduto Gesù, a chi ricorrerai tu, e chi cercherai per amico. Senza amico non puoi vivere bene, e se soprattutto non ti sarà amico Gesù, sarai troppo mesto e sconsolato. Tu operi dunque d'astolto, se in alcun altro confidi o cerchi conforto, piuttosto avere contrario tutto il mondo che offendere Gesù. Fra tutti i cari sia dunque Gesù solo, specialmente di letto. Si amino tutti per Gesù, ma Gesù sia amato per se stesso. Gesù Cristo solo deve essere amato più di tutti, poiché è il migliore e il più fedele di tutti gli amici. Per lui ed in lui ti siano cari sì i nemici che gli amici, e per tutti questi tu devi pregarlo, affinché tutti lo conoscano e lo amino. Non bramare giammai di essere specialmente lodato o damato, perché questo è proprio solo di Dio, il quale non ha chi gli somigli. Non volere che alcuno si occupi di te nel suo cuore, né ti occupar tu stesso nell'amore di alcuno. Ma Gesù sia in te e in tutti i buoni. Sii puro e libero interiormente, senza alcun impedimento di creatura. Bisogna che tu sia nudo e che porti a Dio un cuore puro, se vuoi vedere quanto è soave il Signore. Ma per verità non giungerai a questo, se non sarai prevenuto ed attirato internamente dalla sua grazia, affinché, rigettato tutto il resto, solo con Lui solo tu sia unito. Poiché, quando la grazia di Dio discende all'uomo, egli diventa capace di ogni cosa, e quando essa si ritira, resterà povero e debole, e quasi soltanto esposto ai flagelli. In questo stato non devi lasciarti abbattere, né disperare, ma sottometterti con animo sempre uguale alla volontà di Dio, e tutto ciò che ti accade sopportalo all'ode di Gesù Cristo, poiché dopo il verno viene e l'estate, dopo la notte ritorna il giorno, e dopo la tempesta il limpido sereno. Laudetur Iesus Christus, in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Grazie.